Buon pomeriggio, la prima corsa è il premio Copiad, un miglio per Puleidri di due anni, sono in 9 al via, Unica Griff, Ulla, Bigifont, Ugo Per, University Fox, Unreal Car, Umbrella Gad e 1P in prima fila, Uvegna Mele, ultima notizia in seconda fila, ha sbagliato prima del via Umbrella Gad, allo stacco emergono in lotta Ulla, Bigifont e University Fox, che insiste e passa, University Fox su Ulla, Bigifont, il lancio che va via in 14 per la cavalla interpretata da Giampaolo Minucci, sulla quale sposta presto Ulla, Bigifont, va decisa a chiedere strada, terza posizione per la favorita Unica Griff, con Ulla, Bigifont, che perfeziona il sorpasso su University Fox, passa a condurre, vediamo il parziale per il mezzo giro iniziale, da parte della Battistrada in 37.6, si viaggia sul piede dell'1.15, appena abbondante, però c'è chiara decelerazione, ora da parte di Raffaele Palomba in Salchia, la figlia di Conway Hall, si sposta all'ora Unica Griff e risale al lato di University Fox, agendo in anticipo su Ultima Notizia, nel frattempo parziale di tutto comodo per Ulla, Bigifont, metà gara in 1.4.4, si viaggia sul piede dell'1.20 abbondante, con Unica Griff e credetatamente sopravanza University Fox e cerca di andare al Salchi della Battistrada, poi terza alla corda c'è un Real Car con all'esterno sempre Ultima Notizia, poi ancora un OP che all'esterno Venia Mail, siamo all'attacco dell'ultima curva con Ulla Bigifont che difende bene la posizione da Unica Griff, che per ora insiste e va al lato dell'avversaria, University Fox è sempre in terza posizione davanti a Un Real Car, la retta d'arrivo vede Ulla, Bigifont e Unica Griff che allungano e prendono vantaggio, da University Fox sulla quale sposta Un Real Car a largo di tutti, fornisce lo spunto Venia Mail, anticipata però da Ultima Notizia, lottano sempre Ulla Bigifont e Unica Griff, con Ulla Bigifont alla corda che si difende ancora, Unica Griff che non si dà per vinta ma il traguardo è vicino, Ulla Bigifont si salva da Unica Griff, finisce forte Ulla Bigifont e riesce a fare suo il terzo posto nei confronti di Ultima Notizia e quindi dovrebbe essere 2-1-8, l'arrivo ufficioso della prima di Capannella e con la vittoria di Ulla Bigifont, interpretata perfettamente da Raffa Lomba e capace di eludere l'attacco di Unica Griff con Vincenzo Luongo. Rivediamo le battute conclusive con Ulla Bigifont alla corda per il training di Nicola Citarella che sfugge per una incollatura abbondante a Unica Griff, mentre Ulla Bigifont all'esterno finisce forte a battere Ultima Notizia per il terzo, 2-1-8 l'arrivo ufficioso. Grazie per la visione!